Tre falsi miti sul bushcraft a cui spero smetterete di credere dopo aver visto questo video Perché le cavolate non fanno bene a nessuno, anzi contribuiscono a rendere ancora più confusionario un panorama che in Italia è già nebbioso di per sé La rete, ormai lo sappiamo, è il primo posto dove si entra quando si vuole approfondire un argomento Il problema è che in rete ognuno dice la sua, si trova un po' di tutto ed è difficile distinguere le cose sensate dalle assurdità Specialmente per chi di quell'argomento non ne sa assolutamente nulla Alzi la mano chi ha letto cose assurde sul bushcraft in rete Oggi ve ne commento qualcuna Prima però voglio fare due premesse Premessa numero uno Questo video nasce dalla voglia di aiutare tutti quei ragazzi e ragazze che si avvicinano al mondo del bushcraft e che cercando informazioni in rete e iscrivendosi ai vari gruppi e forum italiani dedicati all'argomento inevitabilmente si scontrano con una narrazione un po' confusionaria e a volte furbiante Io ho un canale dedicato all'outdoor quindi come potete immaginare mi arrivano un sacco di domande anche da parte di persone molto giovani che cercano ogni genere di consiglio Dal tenore di queste domande di alcune di queste domande si capisce proprio la confusione che regna nella mente delle persone Confusione dovuta in parte al fatto che si tratta di principianti ci mancherebbe altro ma dovuta anche a tutta una serie di teorie chiamiamola al limite ma sarebbe più opportuno dire che sono proprio sbagliate che circolano in rete Io non mi reputo un esperto di nulla semplicemente sono uno che purtroppo non ha più vent'anni ho una discreta esperienza escursionistica e di outdoor in generale alle spalle quindi se posso dare qualche spunto di riflessione a chi mi segue lo faccio volentieri Non riesco a rispondere a tutti singolarmente ma magari con un video del genere posso togliere qualche dubbio una volta per tutte Premessa numero 2 Lasciate perdere le definizioni perché non se ne esce Tempo fa in un video dissi che il bushcraft non esiste Oggi a distanza di anni aggiusterei quella frase in questo modo Direi il bushcraft è tutto e niente Oppure ancora meglio sentite questa Il bushcraft è tutto ciò che voi volete che sia Figo eh? In Italia se parlate con 10 appassionati di attività all'aria aperta e gli chiedete che cos'è il bushcraft Vi danno 10 risposte diverse C'è chi dice che è una disciplina, chi invece è uno stile di vita C'è chi dice che il bushcraft sia sopravvivenza un po' più organizzata Chi invece assolutamente il bushcraft col survival non c'entra nulla C'è chi ne fa una questione di quantità di equipaggiamento Se vado nel bosco solo con il coltello e la gavetta Ok, se porto un equipaggiamento completo Eh ma non è bushcraft, a questo punto porta di tutta la casa C'è chi ne fa una questione di tipologia di equipaggiamento La tenda non la porto, mi faccio il rifugio col tarp O addirittura direttamente col materiale che trovo nel bosco Il fornello no Cucino con il fuoco Il fuoco lo accendo col firesteel anche se ho l'accendino in tasca perché se no non è bushcraft Poi abbiamo le pentole di ghisa per il powerlifting La coperta della prima guerra mondiale E la stufa portatile Ragazzi se io sorrido non è per prendere in giro qualcuno Sorrido perché quando sono nel bosco sono contento Secondo me è importante capire che esiste il bushcraft Quello originale, quello storico chiamiamolo Ed esiste ciò che noi nel 2021 chiamiamo bushcraft Che non è altro che un insieme di attività fuori sentiero Svolte come passatempo Per rilassarsi, per ritrovare il contatto con la natura e via dicendo La riflessione secondo me importante in questo senso È che al giorno d'oggi è inutile stare a discutere se è una determinata pratica, se è una determinata tecnica O se è un determinato equipaggiamento rientri o meno nella definizione Perché tanto siamo tutti fuori dalla definizione In Italia non esiste una frontiera, non esistono territori ancora inesplorati E quindi non esiste il bushcraft nella sua accezione originale So che molti non accettano questo tipo di discorso Molti si offendono quando parlo del bushcraft in questi termini Perché sono convinti di essere dei veri bushcrafter Si prendono molto sul serio E pensano che io li voglia prendere in giro Non è così Io semplicemente vorrei che un principiante capisse la differenza tra le favolette e il mondo reale Senza nulla togliere alle favolette Che continueremo a raccontarci perché siamo degli appassionati Perché siamo dei fissati Perché no, mi ci metto pure io in mezzo, non ho problemi Ad un ragazzo che vuole iniziare, secondo me, come prima cosa Vanno insegnate le basi dell'escursionismo Perché di fatto è di questo che stiamo parlando Una serie di attività svolte in luoghi naturali isolati Che bisogna raggiungere a piedi Come si pianifica un'escursione Come ci si prepara fisicamente Qual è l'equipaggiamento da portare Quali sono le prassi e le dotazioni di emergenza Queste sono le cose importanti, secondo me, in prima battuta Poi se volete fare i bushcrafter da parcheggio Per utilizzare un'espressione non mia Quindi stavolta non date la colpa a me Fate i bushcrafter da parcheggio Anche qui c'è sempre qualcuno che si offende Ah, io le giornate più belle della mia vita le ho passate A cento metri dalla macchina Come ti permetti tu Assolutamente non lo metto in dubbio Io dico solo che là fuori Anzi, qui fuori C'è tutto un mondo da esplorare E ridurre tutto ogni volta Alla solita magnata Al solito caffè con la bushbox È una tristezza, dai Almeno secondo il mio modesto parere Ma comunque andiamo avanti Il primo falso mito di cui voglio parlarvi Mi coinvolge in prima persona Perché riguarda i creatori di contenuti Che trattano argomenti relativi all'outdoor E quindi anche al bushcraft C'è un utrito gruppetto di persone Che sui social continuano a sostenere Che gli youtuber danno lezioni di bushcraft O di sopravvivenza Senza averne le competenze E che i loro contenuti Sono di cattivo esempio per chi li segue Io sono dieci anni che ho il canale youtube E che frequento certi ambienti social E sinceramente mi sarei anche rotto le scatole Di leggere sempre le solite stupidaggini Ogni qualvolta esce fuori una questione controversa La colpa è sempre degli youtuber Uno posta la foto di un fuoco Acceso in condizioni pericolose È la colpa degli youtuber Che gli hanno insegnato Che si può accendere il fuoco dappertutto Uno si compra un coltello economico Ha buttato i soldi È la colpa degli youtuber Che recensiscono la roba cinese Esce la notizia dell'ennesimo incidente Nel bosco In montagna Pieno di sprovveduti In giro Che si mettono nei guai Cercando di imitare quello che vedono su youtube Vi giuro che le ho lette ste cose raga Qualcuno le ha scritte Quindi Notizia bomba Youtube è la causa di tutti i mali Esistenti a questo mondo E io sono una persona malvaggia Molto malvaggia Cioè anche i miei colleghi sono malvaggi Ma io sono il più malvagio di tutti Perché sono quello che dice Che il bushcraft non esiste Ecco sarebbe molto eccitante Essere un genio del male Ma la verità è Che io sono semplicemente uno Che fa intrattenimento Mettendo oltretutto Mille disclaimer Non ho mai detto di essere istruttore di qualcosa Non ho mai detto di essere un esperto Non ho mai detto Fate come me E nessuno degli youtuber Che io conosco Dice questo Se la gente fa cose stupide O si mette in pericolo La colpa non è di youtube La colpa è della gente Punto e basta Ma se tu metti mille disclaimer Come mai questi continuano a rompere? Eh bella domanda O non ascoltano O ascoltano e non capiscono Oppure ascoltano e capiscono fin troppo bene Lo youtuber è un soggetto Che riesce ad attirare l'attenzione Di tante persone Utilizzando la sua creatività E le possibilità offerte dalla rete Tutti vorrebbero avere successo Grazie alle proprie abilità Lavorare in proprio Guadagnare dalle proprie passioni Ma ben pochi ci riescono Gli altri rosicano E devono inventarsi qualcosa da dire Prendiamo il caso di Wilderness Calling Che tutti voi conoscete E che è andato su D-Max Anche lì sono arrivati i soliti boomer A dire il programma faceva schifo Non ha spiegato nulla Parliamo di 10 minuti di episodio Lui non può andare in televisione A parlare di bushcraft Perché non è un istruttore Ricorre questo concetto Secondo me molto stupido Non hai le competenze Quindi non puoi parlare Limitati a parlare Di ciò che sai Le altre cose Lasciale perdere Me le scrivono anche a me ogni tanto queste cose E ovviamente quando lo fanno Io li mando a cagare direttamente A parte che sul mio canale Sono libero di parlare Di quello che più mi piace Ma poi che cavolo ne sai tu Di quali sono le mie competenze Una persona potrebbe essere un mostro Ma decidere Appositamente Di non far vedere Tutto quello che sa All'interno dei suoi video Su youtube Per mille motivi Che possono essere Motivi editoriali Motivi Di qualsiasi tipo Ma poi scusatemi Uno per parlare di un argomento Deve essere per forza Illuminare di quell'argomento Non ne può parlare Da semplice appassionato Specificando che ne sta parlando Da semplice appassionato Io dico di sì Perché qui E ripeto per l'ennesima volta Nessuno dà lezioni Qui si sta facendo Dell'intrattenimento Punto e stop Non date credito A certe stupidaggini Perché provengono da persone Che ce l'hanno con noi youtuber Per motivi assurdi Senza alcun senso E quindi Devono inventarsi Qualche cosa All'apparenza sensato Ma che poi non lo è Per criticare Per dare addosso Secondo falso mito Uno dei miei preferiti Il mito del coltello E qui l'atmosfera Comincia a surriscaldarsi Tutti gli ambienti social italiani Dedicati all'outdoor Sono infestati Da schiere di fanatici Del coltello Gente che a una certa Viene anche spontaneo Chiedersi Che cavolo si iscrivano a fare Su gruppi dedicati all'outdoor Se le uniche cose Di cui vogliono parlare Sono Le tipologie degli acciai I trattamenti termici Le geometrie Il bisello Gli espessori Cioè Roba da nerd Manco che ne so Di argomenti Legati all'utilizzo pratico Del coltello No Vogliamo parlare solo Di cose da nerd E sono tutti progettisti Tutti designer Tutti ingegneri Questo secondo me È e rimarrà Uno dei più grandi misteri Della community italiana I fanatici del coltello Sui gruppi di outdoor Ragazzi Io questa cosa Non riesco a capirla Sarò un povero ignorante Se qualcuno di voi Riesce a spiegarmela Vi prego Spiegatemela Spiegatemela nei commenti Perché poi esistono I gruppi dedicati Solo ai coltelli Quindi non si capisce Perché debbano utilizzare I gruppi dedicati All'outdoor Per certi tipi di discussioni Comunque Il succo della faccenda Qual è? È che su sti cavolo Di gruppi di outdoor Gli unici post che generano Interazioni Sono quelli dedicati Ai coltelli Perché poi si finisce Sempre a polemizzare E alla gente La polemica piace Ma così si finisce A parlare sempre Solo di coltelli Mentre l'outdoor È molto di più Io mi metto nei panni Di un povero malcapitato Magari un ragazzo Che cerca consigli Su come organizzare Le sue prime uscite All'aperto Si iscrive al gruppo Tempo mezz'ora L'hanno trasformato In un demente Gli fanno comprare Il coltello di Rambo O quello dello chef Tony Se posta il siga Gli sparano col bazooka Ciao ragazzi Vorrei un consiglio Su un paio di scarponi Ma il coltello ce l'hai? No ma veramente Io andrei solo A fare un pranzo al rifugio Con la mia fidanzata? Come ti permetti Di uscire di casa Senza coltello? Non so se avete mai letto Frasi del tipo Io per il coltello Ci spendo Perché devo affidargli La mia vita Oppure Affideresti un'uscita A questo coltello Ora vi svelo Il coltello non è così importante Come sostengono i fanatici Del coltello I quali Essendo appunto Dei forti appassionati Tendono ad esagerare Ora anche qui Non sto criticando Gli amici del coltello Io ne conosco diversi Di amici del coltello Che adesso probabilmente Si staranno facendo Un sacco di risate Pensando a A tutto il polverore Che solleverà questo video Non c'è niente di male A avere una passione Ma d'altra parte Non si può neanche dire Ad un principiante Ad un ragazzino Su un gruppo di outdoor Che la cosa più importante È il coltello Che si affida La vita Che si affida L'uscita O peggio ancora La vita Al coltello Rambo non è sopravvissuto Grazie al suo coltello Ricordatevi il film Rambo è sopravvissuto Perché aveva la forma fisica Di un atleta Perché era mentalmente Preparato a sopportare Stress Freddo Fame Dolore Mancanza di sonno Perché aveva Perché aveva delle competenze Specifiche E anche perché aveva Il suo coltello Il suo mitico coltello Che ha ispirato Generazioni di survivalisti Quello che sto cercando Di dirvi È che un'uscita Si affida A una sfilza di cose Di cui il coltello È solo una minima parte Non mi potete dire Che se vi si rompe il coltello Mentre siete fuori È un problema Sono guai seri Perché significa Che state sbagliando qualcosa C'è un altro aspetto Poi secondo me Da considerare Che l'importanza Di ogni singolo pezzo Dell'equipaggiamento Varia in base al contesto Se vi cogli un temporale O una bufera di neve In quota Oltre alla linea degli alberi Mi spiegate Che cavolo ci fate Col coltello Diverso il discorso Se state facendo Un trekking in Africa E tutte le sere Dovete costruire il boma Perché se no De notte L'animale vi si mangiano Quindi ragazzi Per concludere Questo punto Il coltello è fighissimo E ha la sua importanza Ma non esageriamo Non spappoliamo il cervello Ai nuovi arrivati Terzo falso mito Ditemi se non avete mai sentito Una frase del genere Il vero bushcraft Si fa senza equipaggiamento O con equipaggiamento minimale Qui torniamo un po' Al discorso che vi ho fatto All'inizio Sulle definizioni E sulla smania Che hanno certe persone Di voler a tutti i costi Rientrare all'interno Di una definizione Leggo spesso di persone Che si avventurano O dicono di avventurarsi In natura In luoghi isolati Senza equipaggiamento Con equipaggiamento Incompleto O con equipaggiamento Vintage Che oltre ad essere Molto pesante Risulta inadeguato In alcune situazioni E se uno gli dice Guarda io mi porto La tenda Il sacco a pelo Il materassino Ti dicono Eh no Così non va bene Non è bushcraft A sto punto Portati tutta la casa Già che ci sei Nell'ottocento Mica avevano tutta la roba Che abbiamo noi oggi Mica avevano la plastica Ora questo ragionamento Secondo me Non solo è stupido Ma è anche storicamente Sbagliato È stupido perché Quando ci si avventura In ambienti naturali isolati È bene avere con sé Tutto l'equipaggiamento Necessario a garantire Comfort e sicurezza Insieme ad un'adeguata preparazione Provate a dire A un operatore Del soccorso alpino O a un soccorritore Della croce rossa Che voi andate in giro Senza equipaggiamento Verito non faccia O che la bussola Non serve a niente Nel bushcraft Quella serve nell'escursionismo Che è un'altra cosa Le ho lette queste cose Ragazzi giuro Qualcuno le ha scritte Ma sta gente Il bushcraft Dove cavolo lo va a fare Nel giardino di casa Di nuovo Se siete degli esperti Se volete mettervi alla prova Se volete Fare un esperimento In condizioni controllate Le ho fatte anche io Queste cose Va bene Ma un neofita Se dovessi dargli un consiglio Gli direi Prendi tutto il necessario Se devi dormire fuori Comincia con la tenda Che è il miglior rifugio Disponibile sul mercato E sti cavoli Se non è cool Sti cavoli Se non è bushcraft Ma poi Sta storia Dell'equipaggiamento minimale Ma non vi puzza un pochettino Anche dal punto di vista storico Io sono un appassionato Di tecniche di sussistenza primitive E quindi conosco a memoria La storia di Ötzi La mommia del Similaun Ora Se il bushcraft È quel set di conoscenze Che permette di vivere Immersi nella natura Penso che saremo tutti D'accordo sul fatto Che un uomo vissuto Nella preistoria Come Ötzi Possa essere considerato Un bushcrafter Duro e puro Ecco Io sono andato a Bolzano A vedere Ötzi E vi posso assicurare Che era equivaggiato Come un mostro Vestito di tutto punto Scarpe imbottite Coltello Ascia Kit per accendere E trasportare il fuoco Arco e frecce Strumenti per ritoccare I suoi utensili in selce Piccolo kit di primo soccorso Ragazzi Questo aveva Tutto con sé Tutto ciò Che di più Tecnologicamente avanzato Era disponibile all'epoca Perché non era mica scemo Sai che gli fregava a lui Delle definizioni Quella roba gli serviva Per stare comodo E in generale Per sopravvivere In un ambiente difficile E quindi se la portava Questo tipo di analisi Secondo me Può essere fatto Anche per altre figure storiche Che rappresentano Un po' delle icone Del bushcraft Mi vengono in mente Le legioni degli antichi romani Durante le loro campagne militari Si accampavano con le tende Oppure pensate Ai pionieri americani Che si muovevano In lunghe carovane Con animali al seguito Con carri Pieni di utensili E di vettovaglie Loro avevano il meglio Che era disponibile All'epoca E non si capisce Perché noi Dobbiamo utilizzare Roba vecchia di 50 anni Per sentirci dei bushcrafter A quel punto Si entra nel campo Della rievocazione Che è bellissima Ma che con l'outdoor C'entra poco O niente Ragazzi Avevo voglia di fare Due ghiacchiere con voi Fatemi sapere nei commenti Se questa tipologia di video Vi piace Che magari ne faccio degli altri Fatemi sapere Se secondo voi Ci sono degli altri falsi miti Legati al bushcraft Che circolano in rete Oltre a quelli di cui ho parlato io Anche questo Scrivetemelo nei commenti Vi ringrazio per essere stati con me Lasciate un like Se vi va Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo alla prossima Ciao